Questo video non era assolutamente preventivato, ma ho deciso di farlo per raccontarvi una mia avventura che sta per iniziare, suppongo. Ieri sera, dopo una solita partita molto molto tranquilla, Windows mi chiede di aggiornarsi. È il classico aggiornamento accumulativo di Windows per Windows 10, e nello specifico è la versione 20H2. Penso si lega così, cioè, c'è scritto così. Io non è che me ne intendo più di tanto, purtroppo, di queste cose. La faccio ieri sera. Il problema è che arrivava a 100, e poi dopo si inchiodava. Ho dato tipo un'oretta, era tipo l'una di notte, fate conto, e quindi dopo io l'ho data su, io ho spento il computer, come avevo già fatto altre volte. Stamattina lo riaccendo, ed era un po' lentino, però ho detto, vabbè, non ci fatto caso, stava smanettando per i fatti suoi. Vado ad aprirlo, e nelle impostazioni mi vedo che stava facendo un download, e mi diceva di riavviare per l'installazione. Io lo faccio, quindi lui si riavvia, aggiorna. Bene. All'apertura, di nuovo, della nuova sessione, il PC è inchiodato. Letteralmente inchiodato. È lento a fare qualsiasi cosa. Dall'apertura del browser internet, e ho fatto uno speed test e la connessione va benissimo. Ad aprire programmi per editing video. Dovevo montare un video con Premiere Pro, un video molto molto basic, che non vedrete mai probabilmente sul canale, perché sono mie prove che sto facendo con dei miei amici. Il programma non riconosce più il codec video. Letteralmente dice codec inesistente, e quindi mostro soltanto la traccia audio, per quanto riguarda DaVinci. Per quanto invece riguarda Premiere, perché li ho provati entrambi, e riconosce il video, ma tipo dice che due o tre file non riesce a capire che formato sono. E quando quello poi vai a mostrarlo, il video praticamente va avanti di un tot, e poi dopo torna indietro e va avanti di un tot, ma sempre sulla barra di continuazione del montaggio. Quindi praticamente è come se Windows va in loop e manda in errore anche Premiere. Le ho provate tutte, ho provato sul portatile a fare questa cosa qua, il portatile non è stato aggiornato, e non presenta questo problema. Quindi è questo aggiornamento che stava portando qualche problemino di base. Vado a controllare su internet se ero studiato a qualcun altro, e trovo svariati articoli che ne parlano, consigliando tutti di non fare l'aggiornamento. Questi articoli sono usciti oggi, quindi io l'ho fatto ieri, e ok, non c'avevo notifiche. Per me in mezzo a gioia, quindi oggi cosa faremo? Oggi, per voi, per me, si tratta di svariati giorni, il tuo emo, e cercheremo di ripristinare il mio computer fisso. Detto questo, via con la sigla. Come dicevo prima, questo video è estremamente improvvisato, ma questa è la chiara motivazione del perché Pixelpacks di 98MP, ovvero io, programma i video per almeno uno o due mesi in avanti. Perché sempre dopo devono succedere delle sfighe, e a me di sfighe ne succedono accattate senza un motivo valido, e almeno abbiamo i video per mantenere il canale attivo, almeno per un po'. Questa roba qua ovviamente non è nulla di grave, è roba che si risolverà abbastanza in fretta, spero. Però, cioè, nel senso, almeno per una settimana io il computer so che non lo userò, perché devo reinstallare i vari programmi, la connessione internet non è così veloce, e quindi ci metterò un po'. E se avessi dovuto montare il video per la settimana prossima, questa settimana non avreste visto nessun video. Quindi, capite cosa serve la programmazione. Preso dalla disperazione, ho deciso di fare il backup almeno dei file più importanti, che non sono pochi, però non è neanche eccessivo, nell'hard disk esterno. Almeno ad avere un backup del desktop e di salvare il più possibile, ma la vedo grigia. Dopo aver fatto il backup, metto una piccola nota per Mr. Spertoni, che potrebbe arrivare questo nei commenti, del tipo, bastava aggiornarlo, bastava riavviare il computer. Sì, secondo me non l'ho provato, ho riavviato svariate volte, i problemi non si risolvono. Quindi adesso l'unica cosa che resta da fare è disinstallare tutto, Windows compreso, quindi tutti i programmi di montaggio video, tutti i giochi, tutti i launcher, roba così, tutto via. e poi dopo mettersi il cuore in pace, reinstallare Windows da capo, settarlo di nuovo e poi dopo mettersi a reinstallare i vari programmi. Fortuna che almeno in questo periodo non ho lezioni in università, quindi ho più tempo da dedicare allo studio e a fare questa robina qua, perché se avessi dovuto seguire anche le lezioni in università sarebbero stati grossi grossi dolori. Si parte col tanto temuto ripristino e si va con questa bellissima schermata grossissima. E vabbè, ci si vede dopo. Miracolo divino, dopo un pomeriggio, sono già passate le 18, quindi da iniziato a fare il restarting ha finito ora, si mettesse a fuoco la telecamera, grazie. Adesso sto facendo il preparing. Schermata blu quanto luminosa. Installing Windows Auguri E così, in modo completamente autonomo, ha deciso che il monitor 1 non gli piaceva più e quindi siamo passati al monitor 2 a fare la stessa identica schermata. Va bene Però sono belle le lucine. Ha fatto la schermata di Ice Rock, la mia scheda madre, e adesso vediamo cosa ci mostra nel monitor 1. Quindi, signori, magari ha recepito che è il monitor 1. No, no, non l'ha recepito. E nulla, nulla. Siamo tornati uguali. Pensavo avesse già finito. E vabbè, a dopo. Signori, sul monitor 2 è comparso Continue to Select Language, quindi andiamo di italiano. Ciao Cortana. Quanto non mi sei mancato. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Non spegnere il PC. No, ma figurati, è da stamattina che sei acceso a smanettare senza farmi lavorare, ma continua pure così. Non ho mica fretta ormai. Signori, ci siamo. Abbiamo di nuovo il PC, completamente vuoto. Adesso andiamo a controllare insieme, così velocemente, se effettivamente è total vuoto. Quindi andando in tutto sminchiato, non riconosce il mouse, oh Gesù. Beh, di qua. In teoria, andando in questo PC, questo qua, il disco è completamente vuoto. E questo ci dovrebbe essere soltanto esatto. Sistema operativo. Benissimo. Ok, possiamo incominciare a reinstallare tutti i programmi da capo. Yeah. Io sono molto molto stanco, non urlo perché è già tardi, sono già le 10 e mezza e in casa tutti dormono, quindi non voglio urlare. Ho dei copili osceni, ma mi sono stressato oggi, è stata una giornata molto stressante. Comunque, cosa non me l'ho ripreso? Dopo aver fatto il setup di Windows, ho dovuto reinstallare l'NVIDIA GeForce per i driver grafici, Logitech G-Hub per il mouse e le cuffie, e la webcam, e tutte le altre robe di driver. Poi ho installato una serie di programmi che mi servono un po' per l'università, un po' per registrare, un po' di robe così. Mi mancano ancora da installare tutti i programmi vari per montaggio video, editing foto, robe varie, ma quello lì ci pensiamo domani perché adesso non ne ho voglia. Adesso ho installato Chrome, e ho installato anche tutti quanti i launcher del caso, quindi Steam, Epic Games, e robe così. E adesso vado andando, perché sono veramente stanchissimo, stamattina mi sono svegliato presto, e sono tutto il giorno qua al computer a dannarmi. Adesso ho messo qua Epic Games a scaricare, poi qua invece abbiamo Steam a scaricare, e qua sul secondo monitor c'è tutta la roba del Microsoft Store, altri giochini interessanti che mi sto giocando in questo momento. Sono le 22.32, così non dite che vi mento, e niente, raga, cioè, ci si vede domani perché sono stanchissimo. Buonanotte. Buongiorno, io è dalle 7 di questa mattina che sto smanitando sul computer. Nella notte ho aggiornato tutti i vari giochi, scaricato tutto. Non vi ho mostrato io che installo Photoshop e Premiere, oltre che DaVinci. Volevo rinstallarmi, come al solito, anche Illustrator per farmi le grafiche e robe così, ma ovviamente Adobe è simpatico come un gatto attaccato lì sotto e mi dà problemi. Quindi per adesso non installerò Illustrator e mi arrangio. Il problema, maggiormente dovuto al fatto che ho dovuto disabilitare, adesso come vi sto mostrando, gli aggiornamenti di Windows. Perché c'è l'ultimo aggiornamento, che è quello che ieri poi mi ha incasinato tutto il computer, mettiamola così, e che se no si aggiorna. Quindi non ho possibilità di aggiornare anche altre robine. Per adesso ho lasciato così, finché non fixano questo problema e non aggiorno nulla e mi tengo il computer in questo modo. Tanto funziona. Adesso l'ultima cosa da fare, visto che questi desktop sono osceni e mi mancano ancora tutte le mie bellissime cartelle, è prendere dall'hard disk tutti i file e rimetterli sul desktop. Ok, dopo tipo 24 ore, perché poco più poco meno sono passate 24 ore, forse, adesso abbiamo di nuovo il computer funzionante. Prima di accenderlo. Ok, questo è buono. Ora, se l'ho fatta bene, qua ci mostra la schermata S-Rock. S-Rock, vibrissimo. Avviati per favore. Telecamera, però dovresti mettere a fuoco un monitor. Ok, logo di Windows. Ok. Schermata di login. Login fatto. E ci siamo. Allora, abbiamo quasi tutti i programmi, mi manca soltanto Illustrator che va bene. Altri file e roba per l'Uni. Grazie Logitech. Ok, secondo desktop funzionante. E boh, direi fine avventura. Grazie a tutti per aver visto il video, spero ti sia piaciuto. E grazie per aver stato con me in questa mia avventura delirante. Non ho idea che io si voglia vedere questo video, però vabbè, ho visto che mi è successo, ho voluto raccontarvelo qua sul canale. Ti ricordo che qua sotto in descrizione trovi il link sia per Ko-fi che tutti i link di affiliazione a Amazon. Se vuoi supportare il canale, a te non costa nulla di più, clicchi su questo link e compri quello che vuoi. E poi dopo Amazon mi darà una piccolissima parte. Ripeto, a te non costa nulla, ma aiuti me a crescere con 8 megapixel. Sempre per crescere ti invito a iscriverti al canale e lasciare un bel like. Commentare qua sotto, ovviamente se tutte queste cose non le hai già fatte all'inizio del video. Cosa che sarebbe stata molto molto positiva. Condividere il video con tutti i tuoi amici. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Aggiornamento dell'ultimissimo secondo. Alla ventordicesima prova sono finalmente riuscito a installare anche Adobe Illustrator. E adesso li abbiamo effettivamente tutti.